E le previsioni meteo non annunciano niente di buono, ancora temporali sul centro-sud. Li prevede la protezione civile per la giornata di oggi, con criticità arancione, e dunque medio-alta su Abruzzo, Puglia settentrionale e Basilicata. Non ci abbandona l'intensa perturbazione che sta interessando da alcuni giorni, soprattutto le regioni del medio adriatico e quelle meridionali, portando forti temporali e condizioni di spiccata instabilità. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta il compito di attivare i sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diramati nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, avverte la protezione civile, possono determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Oggi, sulla Puglia, sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, e per domani si annunciano ancora pioggia e temporali.